Il Dè, lo devi bere come lo beve un contadino di Lasi. Forza dai, proviamoci sempre, vediamo come tieni questa fetta biscottata. Tegniamo la fetta biscottata, ma non volgare, ma non volgare, forza prendiamo la fetta biscottata. Non posso fare un altro tipo di zio? Ok, forza prendiamo la fetta biscottata, questa è la cosa, mi fa un po' paura. Forza prendiamo la fetta biscottata, ce l'hai? Forza la mano del... il polso è tutt'uno con l'avambraccio, forza la mano ferma, forza tieni la mano ferma. Ecco, e adesso la guardi, la sfida... esplosa, regato! Vieni, scendi, forza, dai continuiamo, prendiamo una fetta biscottata, muoviti, forza!